Cale del sipario sulla stagione della Sidi Cassavellino senza acuti e questo è il grande rammarico? Sì, sicuramente la stagione non è finita come volevamo, c'è un po' di rammarico perché è stata una stagione in cui penso che abbiamo prodotto molto però c'è sempre mancato l'ultimo scalino da fare per riuscire appunto a ottenere qualcosa di più concreto. Che significa l'ultimo scalino? Significa che arriviamo a fine giornata e usciamo ai quarti di finale di Coppa Italia, ci è mancato appunto qualcosa in più che ci permettesse di arrivare in fondo ad esempio alla Coppa Italia. Siamo arrivati a fine stagione, giochiamo ai quarti di finale con il vantaggio del campo e usciamo subito. Quindi ecco, penso che sia stata una stagione difficile da dire negativa perché comunque abbiamo ottenuto 20 vittorie su 30 in campionato. Siamo riusciti a arrivare in fondo alla FIBA Europe Cup anche se ovviamente siamo usciti dalla Champions League, questo non è che si può dimenticare. quindi dico, è difficile dire che sia stata negativa per questi motivi, allo stesso tempo se si pensa al fatto che non abbiamo comunque ottenuto niente di concreto, non siamo riusciti né a portare a casa un trofeo né a comunque arrivare almeno in semifinale, certo questo non può essere considerato positivo. Tutto il profilo personal invece che stagione è stata per l'Olo d'Erco? Io onestamente mi sono trovato molto bene qui, sono contento di aver giocato qua sinceramente, mi sono trovato bene con la società, con il pubblico, con i tifosi, con i miei compagni, con tutti quanti, quindi penso sia stata abbastanza positiva, è chiaro che finire così lascia un po' di amarezza, però insomma così è andata, evidentemente abbiamo commesso degli errori tutti quanti e bisogna solo accettare quello che è successo. Restarei ad Avellino? Io ripeto, ancora forse è troppo presto per parlarne, però ripeto, io sono stato bene qui, sono contento e penso sia una possibilità.